Ragazzi, mi è arrivato un regalino. Che cos'è, Piero? Cosa c'è? Cosa c'è? No, lo so! Apriamo? Sì! Vai, così, aspetta, eh! Cosa c'è? No, lo so! Cosa c'è? No, lo so! Cosa c'è? Apriamo, apriamo... Vediamo, vediamo... Ah, una nuova frigitrice della Cossori, guardate che bella! Spacchettiamola insieme. Mi piace molto il fatto che è rettangolare, perché in questo modo posso cuocere la pasta a sfoglia anche senza tagliarla, insomma, no? Perché questi altri qua sono quadrati, mentre questa è rettangolare. Il divisorio per il cassetto. Eccole qua insieme. Questa è una frigitrice da 10 litri a cassetto, cosa che secondo me è comodissima, perché quelle proprio a fornetto dovete prendere una presina per togliere le lattiglie, altrimenti le bruciate. Mentre queste così a cassetto non serve, perché il manico non si scalda, e quindi basta aprire così e prendere quello che ci serve e portare a tavola. Questa frigitrice ha la doppia resistenza, cioè sia sotto che sopra. In questo modo riesce a cuocere bene anche la parte sotto dei cibi, per esempio la pizza, la pasta a sfoglia, tutte queste cose qua. Accendiamo e guardate, questa cosa è bellissima. potete scegliere se far funzionare solo un cassetto, questo il primo o il secondo, oppure tutte e due. Se mettete questo, vuol dire che si accenderà solo questo cassetto qua. Quindi se dovete scaldare piccole quantità di cose, come una frigitrice piccolina. Mentre se dovete fare qualcosa di più grande utilizzando tutto il cassetto, spingete questo, e poi selezionate tutto quanto. Vedete? Con questo potete dividere il cassetto. Ecco qua. In questo modo abbiamo due cassetti separati. un uovo, due cucchiai di zucchero, e quattro cucchiai di latte, un cucchiaio d'olio di semi, un cucchiaio di cacao a mano, e tre cucchiai belli abbondanti di farina. Mescoliamo. Mescoliamo e in pochissimi minuti il pasto è pronto. Vito da parte. Patate. Uno. E due. Due cucchiai di olio d'oliva. Finocchietto selvatico. Mescoliamo bene. Ora mettete un cucchiaino di lievito per dolci. Io ho finito il lievito e quindi oggi aggiungo il bicarbonato di sodio. Tranquilli che l'accesso di mele non si sente una volta cotto. Mescoliamo. Da un matto le patate. Senza carta forno perché vengono meglio. e senza ammucchiarle più di tanto. E adesso facciamo cuocere le patate e i muffin. con ovviamente tempi di cottura diversi. Dove ho messo le patate metto modalità air fry a 200 gradi per 25 minuti. Poi nella zona 2 metto bake a 160 gradi per 20 minuti e partiamo. In questo libricino che vi arriva insieme alla friggetrice c'è tutto quanto ho spiegato. Zona grande, zona doppia. Guardate un po'. Le zone doppie permettono di cucinare due cibi in modo diversi contemporaneamente. E quindi impostate la funzione che vi serve. Poi un'altra cosa. Non mettere mai la carta forno o altri rivestimenti leggeri nel cestello senza il cibo sopra. Perché la carta forno prende fuoco. Quindi mi raccomando, se dovete cucinare qualcosa di molto leggero che la carta tende a svolazzare, mettete sopra un cucchiaio per fare peso, insomma, e bloccarla. E vedete qua modalità air fry per le patate e modalità bake per le tortine. Ovviamente devono essere cotture più o meno compatibili. Nel senso che se mettiamo due torte, una con 20 minuti di cuocere, quell'altra con 40 non va bene. Perché a questo punto quando andiamo ad aprire, la torta di 20 sarà pronta e quella di 40 si sgonfierà. Quindi, insomma, però per fare cibi salati e cibi dolci in contemporanea, secondo me è perfetta. Secondo me è fichissima questa cosa che possiamo cuocere due cibi insieme, contemporaneamente, con tempi e gradi diversi di cottura. Guardate un po'. Qui, per esempio, c'è quello che ho impostato per la modalità air fry. 19 minuti mancano. E qui, invece, la modalità bake. Mancano 13 minuti. Carina questa cosa, vero? Mancano ancora 8 minuti alla fine della cottura dei muffins, però io controllo perché sento già un profumino che sembra siano fatti. Vediamo. I muffins sono già pronti. Sono cotti in un attimo. Adesso li tiro fuori. Zona 2 non mi interessa più. La metto in pausa perché non mi serve più. e lascio andare solo quell'altra. Vediamo come si è venuta all'interno. Ecco qua. Sotto si sono cotti perfettamente. Mordinissimi. Guardate. Sono buonissimi. Controlliamo la cottura delle patate. Mancano 3 minuti, ma sono già pronte. Avevo messo 25 minuti, ma serve di meno. Ecco qua. Adesso le metto su un piatto. Guardate. Perfette. Le patate erano state messe da crude, non erano lessate. E guardate come sono venute bene. Poi una volta che l'avete spenta, potete sfruttare il calore anche per scongelare le fette di pane. Per esempio adesso rimane calda per un po'. Quindi se avete del pane in casa o un pezzettino di pizza, lo potete lasciare all'interno per 10 minuti più o meno con la friggitrice spenta e ve lo scongella senza consumare, insomma. Ed ecco qua. Queste sono le patate. Guardate che belle che sono venute. Grazie, costori. Buonissime. Io mi trovo molto bene con le friggitrici costori. Se le volete regalare o comprarle per voi stesse, vi lascerò qua sotto nel box dell'informazione il link per acquistarla, dove è spiegato anche tutto quanto, insomma, tutte le funzioni, i consumi, tutto quanto lo trovate spiegato lì. E mi piace moltissimo questo modello. Quelli precedenti li ho sparsi un po' in giro per la famiglia, una mia suocera, una mia mamma, insomma. Che dire, spero che questo video vi sia utile. E insomma, fatemi sapere se l'acquisterete o meno. Oppure, semplicemente, fatemi sapere come vi trovate con le friggitrici di questo marchio. Io mi trovo veramente bene. Un bacione, grande, grande, grande. E ci rivediamo prestissimo, sempre qui su Ricette di Gabi. Ciao, ciao.